ciao a tutti in questo nuovo video by gatto matotto cosa andremo a fare una cosa bellissima andremo a vedere una macchina in youtube certo che non è proprio un'auto però va in una direzione e funziona davvero benissimo allora prima vi faccio vedere come funziona e poi dopo vi spiego come va e 1 2 3 ospitate ho sbagliato osservate il prodigio di questa macchina che procede avanti infermabile guardate mi spinge in avanti verso l'orizzonte guardate qua un gruppo di zucche verranno asfaltate della mia macchina blocchiamo un attimo per bloccarla basta rompere questi ok come si fa come si fa allora questa macchina davvero è molto ma molto interessante l'esecuzione di questa macchina è una macchina volante possiamo anche dire ne facciamo due così parallele allora un pistone normale mi raccomando anche fate attenzione a questi passaggi ok poi un due tre quattro cubi si rompono tutti quelli in mezzo ne rimane solo solo uno uno appiccicoso tac così poi chiudete qua mettete uno slime block fate attenzione un blocco di gelatina se lo dite in italiano quindi normale gelatina questo qui tutto a una distanza metà poi uno normale se mi ricordo bene sì ok poi uno slime block un cubo normale un come si dice uno norme scusate ok quindi questo cubo normale questo è normale anche questo qua gelatina e due di pietra poi come si fa si mette sui faccio vedere due macchine insieme proprio il prodigio praticamente questa macchina quindi procederà all'infinito fino a quando voi non romperete o aspettate che ho rotto per sbaglio aspettate un attimo ok così vi faccio rivedere un attimo speriamo che non spessi purtroppo dobbiamo deve lo faccio rivedere così almeno capite bene dai forza ho sbagliato ho fatto un piccolo 1 2 3 3 4 1 2 3 allora appiccicoso rompi questo qui questo qua poi normale se mi ricordo bene e che cavolo però eh ok 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 se ne salta uno che strano ah si qua manca lo slime ecco perché ok quindi slime ok ora velocizzo un po' normale slime e diciamo 2 quanti cavolo ve ne pare di questi qua si fa poi si mette così 1 2 ah vado più lento sullo slime si allora poi troppo vicino e che cavolo aspettate un secondo che quello fatto giusto allora aspettate un attimo aspettate un secondo normale poi poi 1 2 3 4 appiccicoso slime non appiccicoso poi slime cubo pistone slime e 1 e 2 adesso deve andare per forza ok adesso bisogna mettere ah ecco perché non ho messo la carica sbagliato devo metterlo sui slime ricordatevi sempre anch'io sì è difficile però non è facilissimo 1 2 e 3 oh e che cavolo eccolo oh finalmente miracolo allora vi spiego come funziona adesso vedete che sulla sua strada ci metto dei cubi di esempio osservate lui li distrugge letteralmente oppure se li tiene davanti praticamente avete visto che macchina distruttrice scusate i miei errori prima ok come volevo metterci di sopra ah già se si se vuole mettete uno davanti ops successo c'è inceppata quindi adesso ve la faccio vedere solo come si fa l'ultima volta e poi basta e poi vi faccio vedere un extra del video carinissimo allora cercate solo di non farla sbattere contro miliardi di cose perché potrebbe danneggiare il vostro macchinario ok 1 slime 2 questo slime 1 2 perfetto ormai ci ho preso la mano perfetto era quello quello di là ok avete visto? tolto un rumore molto bella la nostra macchinina avete visto poi come distrugge l'erba e tutte le cose circostanti ok ok adesso vi faccio solo vedere un extra vi faccio vedere un extra ok allora ultima cosa devo vedere un attimo se funziona tipo una mucca mettiamo spagna una mucca delle mucche ora faccio slash gay scusate gay mod 3 e se voi schiacciate questo tasto sulle mucche praticamente vi fa entrare dentro la mucca e schiacciate il tasto shift e ci uscite vi faccio vedere avete visto? è la modalità spettatore sarebbe guardate cos'è quella cosa là? vedete? qua c'è qualcosa facendo semplicemente game mod 3 guardate quante cose si trovano cos'è una cosa abbandonata? una grotta? slash scusate che mi faccio entrare dentro slash gay e che cavolo slash fame god uno scusate guardate che fico spagniamo delle mucche e poi noi spasta che facciamo di nuovo il nostro game mod 3 e ci entriamo praticamente letteralmente dentro però non possiamo muoverci dobbiamo guardare dove guardano loro bello eh poi ve lo faccio vedere adesso un attimo con ancora uno spider un ragno slash game game mod uno ok spagniamo uno ragno e guardate che bello io l'ho provato anche col ragno allora facciamo ragno proprio guardate l'ultimo perchè? strano aspettate che salgo su vado in superficie che bello che non mi spavano ah già perchè ho visto la cosa che non ci possono essere i nostri spediate scusate sarà facciamo opzioni facciamo normale così a caso guardate spavolo slash game mod 3 guardate che fico si vede in questo modo strano che io non so neanche come come questo modo cosa cosa mi rappresenta diciamo che è un modo un po' strano guardate che figo che si passa dentro si entra dentro gli alberi vediamo come vede un creeper è da anni che voglio vederlo aspettate che figo vede così un creeper che strano vediamo qualcos'altro di ancora più bello uno zombie eccolo la peccato vabbè uno zombie niente di speciale allora il creeper davvero mi fa impazzire wow guardate come vede tutto a pallini allora diciamo grazie per aver visto il mio video spero che vi sia piaciuto scusate di errore all'inizio ma capita ah si ultima cosa guardiamo solo lo scheletro ma che non riesco a resistere si è uguale va bene allora grazie a tutti da gattomattootto andate al mio sito seguitemi su twitter al prossimo video ciao ciao